Mamma! Dimmi Jessica! Oh, senti mamma, io ho un forte mal di testa, non credo di farcela ad andare a scuola. No, ad andare a scuola non se ne parla proprio. Prenditi un'aspirina, stai un altro poco a letto, vestiti che ti accompagna la seconda ora, ok? Va bene, va bene. Mamma! Mamma! Che c'è Laura? Mamma, ascolta, ho un forte dolore al petto, la febbre a 39 e mezzo e il covid, non ci vado oggi a scuola. Laura, tu forse non hai capito una cosa, tu a scuola non ci vai solo se sei in fin di vita. Che cosa? Adesso ti alzi perché è martedì, tra un po' arriva sabato e domenica e ti riposi nel weekend, ok? Non farti venire più a chiamare! Ma come? Oddio tesoro, che è successo? E non ho niente mamma, un po' una narice tappata. Santo cielo! Tesoro, respira tesoro, respira con l'altra narice, stiamo andando al pronto soccorso.